Allora, come va il tuo lavoro da impiegata statale? Guarda che anche lavorando nel pubblico si può fare ricerca ad alto livello. Dr. Irene Colli. Hai vinto un altro bando? Sì. Il più grande finanziamento che l'istituto abbia mai avuto. Vai la mia galinella dalle uova d'oro. Il marker funziona. Finalmente si potrà vaccinare. Non possiamo permettere che una eccellenza italiana lascia il nostro paese, dottoressa Colli. Sto scrivendo un pezzo sul traffico illegale di vaccini e di virus. Lei sa di essere indagata. Gli scienziati avrebbero diffuso il virus dell'aviaria volutamente. A che scopo? Vendere i vaccini. Ci accusano di epidemia e tentata strage. Tanto è inutile. Cosa è inutile? Non sai quanti erano dati di virus miei io a quegli stronzi? A pacchi! Hai i telefoni sotto controllo dentro a quello che dici. Ma tu davvero vuoi restare qua? C'è come ce la faremo? C'è come ce la faremo?